cercate cercate qui non c'è campo aspetta aspetta fermi fermi ma no forse il signore si è sbagliato voleva dire che in questa piazza c'è qualche problema con la linea no qui a scorrano i telefonini non prendono proprio scusate noi adesso come comunichiamo? no non è possibile prof mi sto sentendo male cioè ho l'ansia non può andare avanti così scusate scusate io adesso come lo carico il mio vlog marina sti cazzi del vlog tuo ho fatto manca in tempo a rispondere a una tima perché potevo svolta sta gira de merda basta giuliani basta basta tutti e non succede niente non è la fine del mondo se non prendono i telefonini per me sì perché se non finisco la relazione ho buttato un anno di lavoro calma allora facciamo una cosa prendete le valigie ci vediamo fra due ore qua così almeno andate dove vi ospitano e chiamate da un numero fisso dov'è il problema così questo è a scorrano carina ammazza